Ma a proposito di gente che disturba, bambini che gridano, anche lì, gente che gioca a palla, anche lì, basterebbe una volta, arrivano lì, si prende la palla, si taglia a fette, in quanti giocate? In cinque, bene, adesso lo dividiamo in cinque parti e ve la ingoiate un quinto per uno della palla con la quale giocava. Io penso che tanti giovani e non giovani, dopo sette, otto, dieci palle che si sono ingoiate, che è anche una cosa abbastanza indigesta, forse la capiscono e la smettono. Genitori che sbattono i figli per la spiaggia a gridare come pazzi, e loro lì che se ne fregano, anche lì si trova il bambino che piange, dov'è la mamma? Si va lì, gli si danno mila euro di multa alla mamma per disturbo della quiete pubblica, anche lì, dopo sei, sette, mila euro che uno deve pagare perché il bambino rompe, la smette di fregarsene del figlio, lo tiene sotto controllo e si continua a piangere, sta a casa, anziché andare a rompere l'anima alla gente sulla spiaggia. Ma un minimo di educazione ci vorrebbe, come a proposito di bambini, in chiesa, ma anche lì, ma possibile, ma è un minimo di educazione, i bambini in chiesa, si sa, si guarda l'orologio, appena si vede un bambino, si conta fino a 25, comincia a gridare, è naturale, allora i genitori lo sapranno cosa dovrebbero fare. Si entra in chiesa, si sta vicino alla porta, in fondo, dopo i 25 secondi che inizia la cerimonia, la funzione, la celebrazione, il rito, il sacramento, chiamatelo come volete, cosa si fa? Incomincia a piangere, il bambino, boom, la mamma e il papà escono, vanno fuori, l'anima è salva, non preoccupatevi, ci sono chiese che hanno la sacrestia dove si sta di fianco, ma non si deve disturbare, niente, gente che entra in chiesa, lascia correre i bambini, salgono sull'altà, tutto bene, dice il buon Dio, sorride, però un po' di rispetto, un po' di educazione, perché questo bambino poi cresce con il disprezzo verso gli altri, non l'hanno educato i genitori, perché deve impararlo lui da solo, il rapporto con gli altri.